Ben trovati. Parliamo di vite dedicate alla cultura in Italia. Chi ascolta e chi ci segue avrà l'opportunità di conoscere persone che hanno veramente dedicato gran parte della loro esistenza allo sviluppo della cultura, quello richiesto dal nostro articolo 9 della Costituzione. E oggi siamo con Pietro Valentino, che ringrazio di essere qui. Lui è il direttore della importantissima rivista Economia della Cultura, edita dal Mulino, che appunto ormai da 30 anni riflette sugli impatti economici dello sviluppo culturale nella vita economica e sociale del Paese. e ha una lunghissima carriera ovviamente accademica, che appunto è stata parallela alla crescita di importanza di questa tematica in Italia e in Europa. e quindi la prima domanda che gli faccio è appunto proprio questa. Questa carriera tua ha accompagnato la crescita del successo della disciplina di Economia e della Cultura, il fiorire di Master, eccetera. Quali persone, quali passaggi sono stati per te importanti in questi anni nella tematica? Questa lunga ormai attività nel settore ha incontrato tanti e molti, sono stati importanti sia nell'approccio teorico sia nell'analizzare dal punto di vista empirico l'impatti della cultura. Se dovessi dire così due personaggi che più di tutti, per motivi diversi, hanno influenzato il mio sviluppo anche di ricerca in questo settore, di sicuro uno è Paolo Leon, col quale abbiamo iniziato insieme alla fine degli anni Ottanta a interessarci di questo tema. e da un punto di vista completamente diverso un altro personaggio che era un banchiere era Gianfranco Imperatori che per il primo si poneva il problema dell'importanza della cultura anche per lo sviluppo delle imprese e dell'economia. Quindi da un punto di vista puramente empirico, con Paolo Leon abbiamo fondato il CLESS, che era un centro di ricerca che si interessava in questi temi e con Imperatori ho collaborato alla nascita dell'Associazione Civita che è diventato anche quello un punto importante dell'incontro tra imprese e il mondo della cultura. Quindi per motivi diversi potrei sintetizzare in queste due figure. Quindi che cosa aiuta veramente una regione, un grande comune, a essere consapevole dell'importanza dello sviluppo culturale per l'impatto economico e sociale sul proprio territorio? L'inizio proprio della mia interesse per questo settore è nato per usare la cultura per rigenerare spazi urbani e territoriali che erano in crisi. Uno dei miei primi lavori è stato a Torino, quindi residenza e collezioni Sabaude, Venaria Reale, che forse pochi sanno che in quel caso abbiamo utilizzato i fondi europei per la riconversione industriale perché abbiamo convinto Bruxelles che la cultura era la nuova industria possibile italiana per le città. Due aspetti credo che da questa esperienza secondo me dovrebbero essere presenti nelle politiche culturali e regionali. Il primo che ritengo importante è questo aspetto che le politiche culturali devono essere le politiche sistemiche, cioè devono essere sempre integrate e coordinate con le altre politiche di qualità del territorio, trasporti, accessibilità, attività di questo tipo. L'altro aspetto che ritengo che bisognerebbe tenere sempre presente è che gli impatti delle politiche e degli investimenti nella cultura sono impatti di medio e lungo periodo. Non si possa investire in cultura avendo come dimensione la dimensione puramente politica, elettorale, ma bisognerebbe lavorare su prospettive di lungo periodo. E quindi diventa importante mettere in atto dei sistemi di governance, quindi di cooperazione interistituzionale ma anche di partecipazione alle collettività per dare stabilità a processi che hanno bisogno di tempo per avere tutti gli impatti. Mi ricordo che tutti i progetti delle mura di Ferrara, che fu un grande progetto di recupero urbano, dopo 5-6 anni della realizzazione cominciò ad avere degli effetti trasformando completamente l'immagine e l'economia della città. Di questi 30 anni della rivista e di questi tanti anni dell'associazione, cosa ti va di raccontare ai nostri spettatori? Credo che l'importanza dell'associazione economica e della cultura dipende prima di tutto da non essere una pura associazione accademica ma essere un incontro di esperti, pensatori, operatori nel settore della cultura. L'associazione economica e della cultura è il primo incontro che nasce su un impulso di Carla Bodo che è stata un po' l'iniziatrice della nascita dell'associazione e poi della rivista. Noi il primo incontro per far nascere l'associazione l'abbiamo avuto con Giuseppe Galasso che era sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali allora. E Galasso fu il primo, come politico ma anche come intellettuale, a ritenere che fosse importante la nascita dell'associazione ma che dovesse mettere insieme gli operatori del settore culturale e non solo i professori, quindi dagli esperti delle regioni ai sovrintendenti, ai direttori dei musei. L'associazione è stata importante e non solo chiusa nel settore dei beni culturali ma aperta a tutto il mondo della cultura. L'aspetto importante è stato quello di aver messi insieme sovrintendenti, direttori di teatri, esperti, creativi. La tua quindi è proprio una vita che è stata tutta vicina al lavoro degli artisti e al patrimonio culturale. Quali incontri ti hanno veramente segnato? Quali persone sono state così importanti per te in questo percorso? Beh, è stato in parte casuale ma in parte poi spinto da un interesse personale molto forte, molto intimo. Questo sì, è vero, mi ha portato in contatto con alcuni che hanno rappresentato gli aspetti importanti della cultura italiana e di questi anni, da storici dell'arte, per tutti penso ad Andrea Emiliani che mi ha insegnato come l'economia, la cultura, la tutela non fossero temi che potessero essere digiunti. Ha tutta una serie di architetti perché vanno da, un po' i grandi architetti italiani, da portoghesi a tanti altri che mi hanno insegnato che la riflessione il riuso, su come il patrimonio potesse, dovesse conservare una propria identità anche per avere un impatto economico, cioè come la banalizzazione della cultura fosse il più grande limite a qualunque sviluppo anche economico delle attività culturali. E credo che poi un mondo, negli ultimi tempi in particolare, di giovani, cioè con la crisi seguo molto questi giovani dello spettacolo, musicisti, così via, che sono quelli poco, che sono veramente interessanti perché fanno tantissime cose, guadagnando pochissimo senza nessuna protezione. Io sto seguendo da un po' di tempo un gruppo che è l'unica Jets Big Orchestra in Italia che ha un'età media di 27 anni. Sono 18 giovani musicisti che provo a dare una mano anche per ottenere contributi. È una storia bellissima, veramente una storia bellissima. Beh, è con questa storia bellissima. Io grazie a Pietro Valentino di essere stato con noi. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento al prossimo incontro. Saluto tutti che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento al prossimo incontro. Saluto tutti che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento al prossimo incontro. Saluto tutti che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento al prossimo incontro.